Tragedia Alfonso Signorini, mi hanno scoperto una malattia mortale. Ecco cos'ho, l'annuncio shock fan distrutti. Alfonso Signorini ha rotto il silenzio sulla malattia che lo ha colpito, cambiandogli la vita. I personaggi dello spettacolo che più amiamo ci appaiono sempre sorridenti e pieni di forza in televisione. Ma spesso, dietro la maschera, si nascondono tragedie e dolori. Come per il direttore di chi che negli ultimi anni sta facendo sempre più breccia nel cuore dei telespettatori della Mediaset. Da poco, il presentatore ha deciso di condividere con il suo pubblico un problema di salute che ha dovuto affrontare qualche tempo fa per poi uscirne fortunatamente vincitore. Alfonso Signorini stava proprio per salire su un palco quando ha cominciato ad accusare i primi sintomi della malattia che lo ha devastato. Lo ha raccontato in una recente intervista alla Verità, il 23 dicembre di qualche anno fa ero in diretta a Calisfera. C'erano ospiti Christian De Sica e Sabrina Ferilli e non smettevo di sudare. A mezzanotte avevo 40 di febbre. Terminai la serata e andati al pronto soccorso del San Raffaele. Anche davanti a un forte dolore, il presentatore non ha messo da parte il suo lavoro e ha pensato prima a terminare lo show.